fiamme dritte verso il cielo un buon auspicio il falò della giubbia ha reso contenti tutti i bustocchi presenti e quelli che lo seguivano grazie alla nostra diretta e dai canali del comune perché ha bruciato quello che tutti vorrebbero fare sparire cioè il covid quest'anno non c'erano molte vecchine salvo una creata dai bambini della scuola di borsano per combattere l'inquinamento la plastica ma più che giubbie tradizionali si sono visti tanti globi di coronavirus che tutti vogliono cacciare via la gente era era contenta gli amministratori hanno dato il là alle fiamme con le torce i vigili hanno tenuto sotto controllo la situazione e tutto è andato per il meglio che siano davvero fiamme di buon auspicio per un 2021 ben diverso dall'anno che ci siamo lasciati alle spalle